La vera priorità di questo paese è difendere il lavoro che c'è e porsi il problema di come creare nuovi posti di lavoro. Con queste parole Maurizio Landini, segretario generale della FIOM CGL, ha aperto il seminario dal titolo Lavoro, legalità, Europa, organizzato dalla fondazione intitolata Claudio Sabatini e dalla FIOM nazionale per ricordare lo storico leader della FIOM scomparso dieci anni fa. All'iniziativa hanno partecipato tra gli altri Marco Assennato, Rita Borsellino, Francesco Forgione, Don Luigi Ciotti, Sergio Cofferati e Giovanna Marano. Credo che sia assolutamente importante un convegno come facciamo oggi che vuole mettere assieme lavoro, legalità ed Europa perché se ci pensate il paradosso di questa situazione è che in tanti teorizzano che il problema del nostro paese sarebbe cancellare i diritti, cancellare la Costituzione, cancellare la magistratura. Io penso invece che per uscire da questa situazione bisogna dare piena applicazione alla nostra Costituzione in tutti i suoi punti, bisogna rilanciare l'idea del lavoro come diritti, bisogna combattere le ingiustizie che ci sono e bisogna ripensare davvero un modello sociale che in questi anni sostanzialmente ha arretrato. Il leader della FIOM ha parlato anche della questione FIAT e dello smaltimento della Costa Concordia chiedendo al governo di evitare il tentativo di mettere uno contro l'altro i lavoratori. Landini ha anche attaccato duramente il governo delle larghe intese guidato da Enrico Letta. Siamo di fronte a un governo delle larghe intese che in realtà non è d'accordo su nulla e siamo di fronte a un immobilismo perché si sta discutendo di come salvare un signore che è stato condannato più volte dai tribunali italiani. Io trovo che questo sia un fatto non accettabile perché questo rischia di mettere in discussione la democrazia del nostro paese.